Weekend verde per l'amministrazione comunale di Sorso che partecipa alla Green Week 2021, l'evento più importante in Europa dedicato alla politica ambientale che si è tenuto alla fine del mese di giugno. L'assessorato all'ambiente, in collaborazione con l'assessorato alle manutenzioni, ha organizzato una a due giorni dedicata alla riqualificazione urbana e alla sensibilizzazione sui principali temi legati alla sostenibilità ambientale. Venerdì e sabato scorso le aziende green del territorio hanno esposto i loro prodotti e servizi in stand e corner informativi a tema. Allestimenti floreali, vetrine e balconi fioriti, animazione a tema per bambini, energie rinnovabili e riciclo e mobilità sostenibile sono stati i punti cardine dell'evento. Nel cuore della città fiori e colori in un percorso che includeva tre piazze, San Pantaleo, Bonfigli e Sant'Agostino, una location d'eccezione per le 15 realtà aziendali locali legate all'ambiente che hanno partecipato all'iniziativa. L'evento ha preso il via da giovedì con un convegno che si è tenuto al Palazzo Baronale su innovazione e sostenibilità, possibilità di creare impresa con numerosi relatori in rappresentanza di Invitalia, Camera di Commercio Italo-Araba, Aspal, Centro per l'Impiego di Sassari e tre aziende che hanno illustrato il loro modello di business sostenibile, tra queste la stilista Antonella Fini che ha presentato le sue ultime creazioni confezionate con tessuti realizzati con colori naturali ed estratti dalle piante spontanee che trovano il loro habitat naturale nell'isola, come il mirto.